Nel mezzo del cammin della loro vita, Dante e Virgilio si ritrovarono nella selva oscura della scuola dell'infanzia di Barbiano. Fuggito da casa, il piccolo Dante incontra i bambini e insieme, nel buio della notte, iniziano il loro viaggio tra pianeti e costellazioni, vivendo con entusiasmo un percorso articolato su attività di carta pesta, matite colorate, tempere e piccole drammatizzazioni. Le insegnanti e i bambini collaborano con la scuola arti e mestieri di Cotignola.